E bentornati tutti quanti nella Locanda, oggi con un nuovo video è più esattente e torniamo su Erson per andare a vedere un deck molto particolare. Ragazzi, oggi vi vado a portare quindi un druido, druido che si gioca attualmente molto in versione drago, ma in questo caso non è per niente drago. Si tratta di un hero power druid, ha davvero molte carte interessanti, praticamente è un OTK in cui andrete a fare tanti tanti danni, tuttavia ha comunque altri modi per andare a vincere al di fuori dell'OTK. L'OTK vi serve contro mazzi più lenti come Warrior, come Mage o come magari DK Control. Andiamo quindi a vedere la lista nello specifico, andiamo a giocare ovviamente tutto il pacchetto hero power, quindi la 1-1 che ci va a pescare doppia bestia, di bestie giochiamo semplicemente sia lo spirito libero sia il gatto festaiolo che per l'appunto entrambi in doppia coppia ti permetteranno di portarti il hero power a fare più 5 d'attacco e più 5 di armatura. A questo punto voi come andate a chiudere il game? Beh, è molto semplice, avete la paxi popolare che vi permette di riavere il hero power a 2 mana, e però scontandovelo a 0 se attivate entrambi gli effetti di scegli. Quindi praticamente puoi rigiocare il hero power e puoi pagarlo 0. A questo punto voi capite che poter rigiocare il hero power vi permette non solo di avere 5 danni ma di averne 10, però in verità andiamo a vedere un'ulteriore carta che è Amico Canterino, che vi permette di attivare doppiamente l'hero power 2 volte, quindi al posto di essere 2 volte 5 danni, sarà 2 volte 10 danni, quindi diventano 20 danni. Ovviamente giocate una doppia coppia alla pixie, quindi possono diventare 30 danni, perché lo potete riattivare 2 volte. Come se non bastasse tutto questo, abbiamo anche Ignis, che vi può dare un'arma con furia del vento, e in particolare nei matchup super lenti, ecco che l'arma sarà fondamentale e quindi avrete ad esempio quei 30 danni a cui avete furia del vento, quindi ulteriori 2 danni poi dall'arma, se prendete quella da 1, cosa che vi consiglio in modo da evitare sfaccarmi, e poter spingere una cosa come 60-70 danni in testa all'avversario, super semplicemente. Tuttavia, come detto, non è il solo metodo di win condition che ha il deck, l'hero power stesso è una sorta di win condition, perché poter sparare ogni turno 5 danni o più è davvero molto forte, e soprattutto ottenete davvero tanta armatura, ma questi 5 attacco e 5 armatura possono aumentare ancora di più. Come possiamo aumentarli? Beh, giochiamo Geppetto, Geppetto che è un 8 mana, 6-6, grido battaglio, ottiene coppie di ogni servitore con un attacco e una salute che ha giocato in questa partita. Quali sono questi servitori? Beh, possono essere Spirito Libero e il 2-1 Festaiolo. Attenzione, perché se giocate Pifferaia sarà anche Pifferaia essa stessa. Tuttavia, potendo quindi giocare Geppetto, avrete ulteriori W2-1, W1-2, quindi il vostro hero power da più 5-5 potrà diventare un più 9-9, e capite che l'OTK può aumentare e farà un quantitativo di danni spropositato e tendente all'infinito, perché se pensate 9-9 che si attiva doppiamente, sono 18-18 che potete ricastare 3 volte in totale, quindi sono più o meno, arrotondiamo ora, sono 20-40-60, meno, cosa, 6, quindi è un 54-54, con Furia e l'Evento sono tipo 106, sì, sono tipo 112, perché con i due d'attacco, quindi 112 danni in totale che sono elevatissimi. Detto questo, abbiamo ovviamente tutto il pacchetto che gira attorno all'hero power, quindi oltre alla 1-1 che ci pesca, abbiamo la spell da 1 che si potenza facendo armatura, basta spammare hero power, abbiamo la braccia natura che vi fa pescare sia la Pifferaia sia la 2-3, come dicevamo, abbiamo la diffusione al verbo che ci fa pescare e si sconta per ogni punto d'attacco che ha il nostro deck. Chiude anche la leggendaria Zok Muso Grugno che vi permette con l'hero power semplicemente, ad esempio settato 9-9, andate a fare HP più 6, che vi va a evocare un doppio 10-10 con provocazione e quindi davvero molto impattante. Oltre a questo giochiamo carte fortissime che possono essere win condition stand alone come Yogg-Saron, Eonar e anche Aviana, la nuova 5-5-5, questo deck vi permette di pescare davvero tante carte, e quindi magari un ulteriore valore grazie a Aviana potrebbe essere fondamentale. Andiamo a vedere brevemente la lista per vedere le ultime carte che abbiamo visto. Innervate per andare a rampare, non abbiamo visto. Dono in Malfurion potrebbe essere utile per andare a rampare, per andare a rimuovere, per ottenere ulteriore attacco e quindi ulteriori danni. Questi servitori li abbiamo già tutti quanti visti e parlati. Gremoglio per andare a pescare come ovviamente la diffusione. Figlia dei Fiori per ulteriore peschino, peschino che oltre a essere tutti i servitori visti può andare anche a prendervi Zillax, che in questa situazione abbiamo deciso di giocarlo contro mazze aggressivi, quindi si conta per ogni servitore in gioco in modo da potervi entrare davvero a poco mana e potervi andare a curare, e mettere insomma un buon body. Questa è la lista, ragazzi. Io direi che è tutto. Possiamo andare direttamente con le partite, ma vi ricordo un bel mi piace, soprattutto un'iscrizione, perché solo io vi porto questi deck frizzantini. E andiamo quindi subito con il primo game di oggi e ci vede affrontare un bel Warrior. Va bene, guerriero, lo possiamo anche accettare. Il punto principale svantaggioso di Warrior ovviamente è uno, che la partita durerà molto, però abbiamo doppio gatto 2-1 che ci andiamo a prendere bonitieri. Abbiamo anche la 1-1 che ci andrà a pescare lo spirito libero e ottimo così, la curva di mana è senza alto buono, riusciamo a potenziare di molto l'HP e siamo contenti. Credo che turno 2 e turno 3 quindi siano già segnati. Aspettiamo che il fiore vada a sbocciare per andare a pescare ulteriori due carte e farci 10 di armor. Come sappiamo Warrior non è che abbia grandissimi modi per darci fastidio in early game. A questo punto quindi andiamo di 2-1 andiamo a spingere il dannino testa e passiamo il turno. Mi aspetto un HP da parte dell'avversario in questa circostanza. Alla fine decide di andare di scudo saldo al posto di Aeropower. In particolare questa scelta poteva anche esitare un attimo. Non ha senso molto andare a fare Aeropower. Io qui andrei praticamente all-in con i nostri vari servitori anche perché in questo modo con l'Aeropower effettivamente possiamo darci più tra attacco. Nel caso in cui invece l'avversario volesse andarci a rimuovere questa board beh, può andarla a fare tuttavia con l'Aeropower ci fa pescare due carte e ci fa spendere zero mana. Inoltre gli posciamo una quantità di 5 danni che ovviamente è davvero molto molto elevata. Niente di tutto questo decide di continuare a farsi ulteriore armor continuare a ciclare ci può stare e noi qui ci dividiamo in due chance diverse. Una è quella di pushare danni testa sono 3 danni pescare due carte l'altra alternativa è quella di andare semplicemente a pescare due carte e farsi 10 di armor. C'è da dire che se andiamo a utilizzare l'Aeropower ora mi piace leggermente di più in quanto pushiamo appunto quei danni in più e prossimo turno possiamo comunque andare a fare nuovamente Ieropower in più la spella 3. Il coin non ci interessa al momento spingiamo tutto quanto testa lasciamo l'avversario a 27 punti vita e continuiamo a mettere un'aggressività davvero molto molto elevata. Turno 4 di Opponent che secondo me ora si vede obbligato ad andare a rimuovere perché effettivamente prendersi 6 danni comunque ogni turno è davvero troppo è esattamente quello che va a fare scosse d'assestamento risulta essere abbastanza forte in questa circostanza ma il nostro Aeropower va a fare 5 danni purtroppo non abbiamo ancora trovato nessuna carta che va a forgiare andiamola a cercare quindi dalla spella 3 spella 3 che non ci dà un grande esito continuiamo ad andare a fare Aeropower ulteriori armi e ulteriori 5 danni una pressione eclatante per il povero warrior che si trova semplicemente a 22 punti vita con un Aeropower contro che può fare davvero tanto tanto male Tilan, Tilan non mi preoccupa in modo esponenziale possiamo andare a togliere lo scudo di vino con l'Aeropower potenziamo in questo modo anche la spella 1 andiamo a pescare 2 carte grazie alla 4-5 e arriviamo a 8 carte in mano un numero ideale per quello che vorremmo andare a fare nei prossimi turni Zilex non è che sia davvero speciale in questa situazione ma stiamo a vedere cosa potremmo andare a fare nel frattempo l'avversario sta pensando sul turno 6 che potrebbe risultare essere negli 1-1 questo trade mi fa dedurre che non lo sia si va a prendere credo Odino a questo punto anche se non ho ben capito che mazzo possa essere l'avversario credo che sia un Highlander tradizionale vedendo le carte chiude con Aeropower e rimane a 24 punti vita no attenzione perché decide di andare a utilizzare il coin per non andare a millare ci può stare Geppetto è incredibilmente forte il problema è che ci dobbiamo andare a liberare questa mano cosa che non è esattamente la cosa più semplice del mondo andiamo quindi a farlo in quanto Geppetto vogliamo che ci ridia le 2-1 che ci danno tanto attacco andiamo a spingere questi 9 danni testa lasciamo l'avversario a 15 di vita sempre meno il problema è che non abbiamo trovato nessun pezzo della combo né quello che ci ricarica i cristalli di mana né in verità la carta che ci permette di andare a forgiare quindi di poter giocare il 2-4 né in realtà la carta che ci permette di attivare doppia volta l'Aeropower quindi siamo ancora in alto mare e questa è senz'altro molto molto assortuna dal nostro punto di vista l'avversario va di Ignis 2-4 potrebbe essersi preso l'arma da 10 come si potrebbe essere preso l'arma da 5 cuore fiorito ci va a tradare anche l'ultimo 1-2 e a noi ora ci si apre una giocata interessante senz'altro e abbiamo trovato il drop a 2 che ci ricarica l'Aeropower un piccolo pezzo di combo l'abbiamo finalmente ottenuto non è l'ideale perché noi vorremmo sempre andarlo a pescare dalla spella 2 comunque qua io direi che il giorno risulta essere abbastanza forte così continuiamo a pusciare danni testa la borda è comunque molto buona ed è comunque abbastanza complessa andarla a tradare questa roba del genere e soprattutto ci dà tutto quanto il tempo per poter andare a giocare geppetto turno dopo andare a giocare a uno spirito libro e non andare a millare rivestimento non mi preoccupa affatto l'unica cosa preoccupante è se qui dovesse avere sanitizzazione che infatti ha va bene tutto da rifare un pochettino otteniamo il coin coin senz'altro molto buono perché ci dà la possibilità di giocare ancora più facilmente geppetto geppetto che ci ridà doppio 2-1 è uno spirito libro molto contenti di ciò andiamo a giocare per l'appunto il 2-1 che ci porterà addirittura l'hp a fare 9 danni appena giocheremo anche il secondo gatto che sono tantissimi sono tantissimi l'avversario ha capito che in una situazione critica ha deciso di andarsi a curare e lo può fare davvero tantissimo addirittura una cura 12 grazie a doppio ziliax noi qua finalmente andiamo a trovare la forgiatura andiamo quindi a forgiare possiamo andare semplicemente a giocare il gatto l'hp lo vogliamo andare a fare probabilmente si che vogliamo andarlo a fare l'hero power sto solamente pensando chi vogliamo mettere in combo il problema è che se andiamo a fare l'hp non riusciamo a giocare il ziliax in questa circostanza ma comunque è davvero troppo forte non andarlo a fare andiamo a fare il trade con la spell andiamo a pushare gli 8 danni rimanenti l'1-1 non ha tanto senso perché ormai le bestie abbiamo già pescate da qui purtroppo sbagliamo il 50-50 andiamo a trovare l'altra 1-1 che letteralmente non ci fa nulla e qui aver perso questo 50-50 potrebbe andare a influenzare molto stiamo a vedere di sicuro da Ignis vogliamo l'arma con furia del vento il 5-6 non è un problema ci porta davvero tanti danni è sicura soprattutto di davvero tanto abbiamo il turno per l'appunto per andare di Ignis a questo punto andiamo a farlo ci troviamo l'arma da 1 ottimo furia del vento lo andiamo a giocare immediatamente buono anche due danni sono due danni in più alla fin dei conti vogliamo chiudere avere due danni in più potrebbe non far mai male da qui andiamo a trovare una pantera che potrebbe potenziare ancora di più l'arma anche se probabilmente non andremo a giocare possiamo andare anche di ulteriore 1 mana da qui troviamo l'uccello andiamo a prendere l'uccello e usciamo questi 8 danni testa mamma mia che roba praticamente avere una pirosfera ogni turno a 2 mana che ci fa pure armor fortissimi tuttavia giochiamo contro warrior e lui se ne fa ben 8 di armor più altri 8 a turno quindi addirittura 16 vadiodino attacca wow spreca l'arma addirittura interessante qua la scelta noi dobbiamo impedirli di poter andare a otticapparci al prossimo turno e quindi direi che dobbiamo andare a mettere una board decisamente troppo forte per lui andrò a spaccarmi il 2-1 possiamo andare anche di eonar into ziliax qui potrebbe starci 20 non è little ma è nella vita purtroppo per noi quindi andiamo di eonar 2-4-6 esattamente abbiamo spazio libero per ziliax a questo punto andando a ricaricare i cristalli di mana giocata molto pulita qui la nostra andiamo a fare il trade andiamo a spaccare il resto e qui possiamo andare a far cosa credo che andremo a forgiare andremo a pescare la 2-3 ultima per avere la hp a 0 che è importantissimo possiamo andare a fare semplicemente il hero power e pushare questi danni testa portiamo l'avversario a 48 punti vita non basta ancora no? perché sono 9 e sono 2 mana 18 e sono 4 mana 18 20 e sono 5 mana 22 qui la brolla andiamo a perdere in modo clamoroso se attacca con l'arma non è dita se invece non attacca abbiamo vinto a meno che non si faccia ulteriore armor perché teoricamente sono sì teoricamente sono 9 18 27 29 30 tuttavia decide di fare hero power ed è gg well played non penso che attaccherà qui perché ma ci mette il taunt e attacca pure non può essere dita per ovvi motivi siamo a 16 punti vita il che è un problema ma possiamo comunque resistere perché alla fine il fuori all'evento lui l'ha l'ha andato a sprecare quindi noi di questo siamo abbastanza contenti possiamo andare a fare la pantera vediamo cosa esce dal pezzo in questo caso esce un 1 2 che possiamo andare a valutare semplicemente col 2 1 andrei a fare anche hero power e non ci rimane molto altro da giocare potremmo valutare di andare a giocare la spella 3 per farci ulteriore armor e secondo me ci può stare almeno siamo più tranquilli in questa situazione pusciamo questi 12 danni testa e teoricamente se qui non ci dovesse andare a mettere ulteriori taunt oppure andarsi a fare una quantità di armature esorbitante dovremmo aver vinto se inoltre quella 4-2 dovesse rimanerci in campo beh allora lì è GG urto è forte ci porta 8 danni in verità 11 danni con l'arma e 30-32 dovrebbe essere sempre l'ital giusto perché sono 2 danni col 2-1 da qua possiamo prendere più 4 attacco ma non ci serve sono 9 18 18-20 29 più 2 danni più 2 danni quindi 29 5-5 sì sì dovrebbe essere l'ital esatta o 2 over dovremmo essere addirittura quindi andiamo a giocare la 2-3 possiamo andare a fare nuovamente hero power andiamo a 20 andiamo a rigiocare la 2-3 che ricarica il nostro potere eroe andiamo a 29 danni a questo punto possiamo fare una cosa come appunto un botto di danni e chiudere così wow era l'ital esatta per fortuna abbiamo preso quei due danni di arma perché sono stati letteralmente decisivi un po' di sfortuna qui nel non aver trovato ovviamente il servitore che ci rendeva tutta questa combo molto più semplice quello che effettivamente ci portava ad avere l'hero power che si attivasse due volte ecco in quel caso giocando lui semplicemente giocando la 2-3 ottevamo davvero una quantità di attacco incredibilmente elevata ma è andata bene così e siamo contenti non ci credo secondo game a questo punto sarà anche l'ultimo perché ha già durato mezz'ora la partita di prima andiamo a rigiocare contro warrior abbiamo visto come si vince contro warrior cerchiamo di andarlo a rifare buona senz'altro la spell 2 anche se è un pochino lenta la spell a 4 al momento non abbiamo le 2-1 quindi potremmo andarla anche a scartare di sicuro il titano è la carta che non vogliamo mai avere in questo matchup in quanto 10 mana è davvero troppo troppo ma troppo lento va a scambiare la vibra al turno 1 non che ci interessi molto noi non giochiamo a armi a parte l'arma 1 però la facciamo nello stesso turno per evitare appunto spaccarmi da parte di warrior non andatevi mai a settare armi con furia e vento che siano tanto grosse è un problema con le liste che giocano spaccarmi come i guerrieri troviamo un altro abbraccio tra l'altro direi che possiamo andare a giocare quello già forgiato perché nel caso in cui dovesse andare a trovare la 1 mana e non la 2 mana ci conviene riusciamo a giocare da qui arriva tutto uno schifo forse boll 2-4 in late se dovessimo finire il mazzo perché abbiamo pescato troppo potrebbe essere buono e 2-2 non abbiamo mech quindi non ha senso la tigra è davvero troppo pesante per la nostra mano e quindi non andiamo a farla va a forgiare il che vuol dire che avrà una removal noi troviamo un geppetto che però ora non ha particolare utilità il 2-6 ci ha fatto calare il 2-4 e di questo siamo contenti perché comunque il 2-1 non è stato intaccato da questa cosa andiamo nuovamente a forgiare noi abbiamo bisogno del drop a 2 che ci arrivi che ci ricarichi i poteri eroi e che ci faccia anche costare a 0 quello è senz'altro fondamentale come cosa urto sono ulteriori 3 danni ci va a mettere il 2-4 nel mazzo come un 4-8 va bene ci porta ulteriori due danni noi a questo punto troviamo uno spirito libero andiamo a fare la spella 2 un 66% di andarla a vincere è quello che è successo andiamo a fare anche hero power e qui chiudiamo il trade facendo due danni di attacco e due danni col 2-1 anche se tradevamo prima col 2-1 erano tre danni non cambiava nulla allora abbiamo delle cose vantaggiose abbiamo delle cose svantaggiose il problema è che non abbiamo trovato il secondo gatto al momento e quindi Geppetto non ha una grande value abbiamo tante carte in mano che mi vorrei andare a liberare per Geppetto a dire è vero dovremmo valutare anche di andare a fare doppia overgrowth con le spell da 1 per andare a rampare e giocarci Geppetto il prima possibile ma come detto senza 2-1 qui non è che sia molto utile decide di andare di value trade sullo spirito libero no poi ci ripensa va faccia noi troviamo una figlia figlia che comunque è un ottimo draw a questo punto possiamo andare a tradare il 3-3 possiamo andare a fare figlia finiamo il trade con l'1-2 mi risulta abbastanza pulito il turno troviamo un Elia che ci potrebbe far pescare tante carte intanto contro Warrior non ci interessa posso andare forse a ricaricare cristalli in mana forse si non lo so ora ci pensiamo e valutiamo di sotterra un tesoro non è un problema anche la spell a 2 non dovrebbe essere un particolare problema passa qui il turno e siamo contenti a meno che non giochi qualcosa umana possiamo vedere si decidi di tradarci il pezzo di questo noi siamo abbastanza contenti Aviana per quanto sia interessante e frizzante non è particolarmente forte al momento direi che andiamo a fare il nostro turno andiamo a fare doppia overgrowth in questo modo prossimo turno riusciremo a giocare il titano in completa libertà qui andiamo a pushare ulteriori danni testa che mettere tanta aggressività è sempre utile secondo me contro contro warrior turno dopo 5-7 che ci fa pescare andiamo a giocare qualcosa umana questo è il mio piano o almeno quello che penso di andare a fare stiamo a vedere se non trovare uno spirito libero un'altra spell che fa due danni che aumenta e si rafforza per ogni armatura che facciamo e così via la spell a4 non l'arma a4 non mi preoccupa è vero che si fa armor però va bene ancora sotto controllo la sua armatura per la nostra full combo l'importante è che non vada oltre 60 70 buona spell a1 top deckata in questo modo noi andiamo a millare quando andiamo a pescare tutte quante le carte troviamo anche zyrex i completanti inutili in questo matchup andiamo quindi a fare la spell a1 pescata in precedenza e passiamo il turno l'avversario è obbligato a counterarci con la eonar non può permetterci di aver 20 mana al prossimo turno sarebbe un incredibile problema però attenzione forse non ha il modo di traddare se non con la testa il che comunque mi andrebbe benissimo se andasse a fare 5 danni faccia no niente di niente ha carica esplosiva l'avversario è davvero tanta tanta roba rispetto a noi che stageranno un pochino tutto male avere ancora l'hero power che fa 3 danni insomma è una sfortuna indicibile il 6-4 fa ulteriori 4 di armatura non sono sereno della cosa perché tutta questa armor mi impensierisce finalmente troviamo l'ultimo gatto che possiamo quindi andare a giocare io qui mi voglio iniziare a liberare la mano solo che è difficile perché abbiamo solo card draw e quindi andiamo a pescare non possiamo fare niente spirito libro è comunque buona figlia è ok però non possiamo giocare in questo tour andiamo accontentiamoci alle 2-4 andiamoci a prendere l'arma 1 furia e vento ottimo e 2 danni abbiamo visto che funzionavano prima funzioneranno anche ora almeno speriamo con i 4 attacco possiamo spaccare la 6-4 in questa maniera è vero che non andiamo testa però riprendiamoci un po' di board control fino a quando non gioca a branna io sono davvero tranquillo perché non abbiamo particolari frette che mi rovini le combo oppure che insomma giochi il bombarolo eccetera eccetera quindi non ho tantissima fretta di accelerare ovviamente sto cercando di andare a pescare il più possibile per cercare insomma di ottenere e chiudere la partita il prima possibile per l'appunto il coin il coin non è male possiamo partire di hero power possiamo andare a mettere un po' di board per andarci a sfoltire leggermente la mano a questo punto non è che ci rimanga molto a giocare potremmo valutare a fare un coin in 2 spell da 3 è vero che ci fa pescare semplicemente una carta non è molto utile pescare una carta togliamo il veleno quanto risulta essere molto forte e passiamo qua al turno ormai siamo agli sgoccioli lo svantaggio che non abbiamo ancora trovato con la scorsa partita i warrior la carta che ci dà l'hero power ci attiva a doppia volta e ci va a rimuovere tutto col reno sinceramente il turno comunque è abbastanza passivo il suo di questo ne siamo contenti troviamo anche la seconda 2-3 che però non riusciamo a giocare nella full combo purtroppo andiamo quindi di hero power andrei a giocarmi zilax che comunque è un taunt fastidioso continuiamo a pushar danni 56 punti vita quanti danni abbiamo? ne abbiamo davvero pochi perché sono 5 10 12 sono 26 danni abbiamo davvero troppo pochi praticamente gli togliamo semplicemente l'armatura e non lo intacchiamo attenzione perché ragazzi questo 7-6 lui pensa di aver fatto la giocata ma in verità potrebbe ucciderlo questo 7-6 perché se noi lo spacchiamo in continuazione diventa tosta per lui dobbiamo trovare per forza quello che ci attiva di hero power due volte andiamo a cercarlo ok l'1-4 l'abbiamo trovato finalmente possiamo andare anche di hero power a questo punto la spell da 0 non ha senso perché ci rimane una carta in mano e quindi qui andiamo a pushare 5 danni in test semplicemente il 7-2 intanto andrà a sbattere sul 4-8 per quanto mi riguarda e andrà a fare doppio trade col 2-4 non aveva senso andarla a traddare che poi mi ritornava a essere 7-2 quindi ritornava praticamente come era prima non era molto utile ma scambiare la vipera ovviamente noi non giocheremo l'arma fino a quando non abbiamo la combo ovviamente così andiamo a sprecare tanti danni in più che potremmo andare a fare ma non è che ci rimanga nient'altro gioca il 2-6 dal 2-6 gli arriva uno yog che è pericoloso tuttavia il 6-5 per riuscire ad andare a traddare qua poteva scendere in verità più o meno tutto tranne quello che ci dava di aeropower doppiamente andiamo di aviana in questa maniera possiamo andare a non soffrire la fatiga andiamo a spingere 4 danni sul 2-6 andiamo a giocare anche la 4-5 è vero non ci pesca nulla però è comunque fine allora qui ci si aprono due strade la prima è andiamo a pescare dei leggendari che costano davvero poco e questo è il vantaggio incredibile perché abbiamo comunque la spella 3 che pesca 2 e quindi possiamo giocare tanti leggendari nei prossimi turni cercare di abbassare i punti vita andare a giocare a Geppetta andare a giocare le 2-1 gli 1-2 e andare a chiudere la partita con la nostra combo nel frattempo spammiamo sempre i aeropower credo che questa partita sia vinta inoltre per l'appunto l'avversario non ci sta mettendo troppa pressione anche perché noi ci siamo fatti una armatura incredibilmente elevata grazie al nostro HP come quella che in verità si è fatta anche lui nulla a dire a questo punto di vista prova del fuoco inizia a metterci tanta pressione opponent va a traddare praticamente tutto quanto a bordo gli rimane semplicemente che trade ha fatto non ho ben capito ma va bene secondo me poteva risparmiarsi un 5-5 o comunque un 5-1 il 3-4 è attivo vabbè io lo giocherei comunque giocandolo è vero ci occupano uno spot in mano ma comunque sarebbe bloccato andiamo a pescare il 4-6 è anche qua interessante il 4-5 è comunque buono perché giocherà probabilmente lo spaccaro ma su di lui tuttavia non sono confident nell'andare a giocare ulteriori spaccarmi peccato il 3-5 averlo giocato dopo l'hero power però ci serviva a fare l'hero power per andare a pescare va bene lo giochiamo comunque questo turno prossimo turno deve essere il turno di geppetto io non vado a giocare alla fine le fonti il 4-6 non mi fa impazzire molto attualmente in quanto abbiamo più carte noi e sono probabilmente più carte forti va di vipera va bene ce l'aspettavamo ci toglie l'arma del 4-5 gli pensi di aver fatto una bella giocata sinceramente più che bene così e soprattutto ecco che quel 7-2 inizia a essere tradato e gli va a togliere un po' di armor che è un'ottima cosa per noi ma purtroppo siamo ancora lontani da un ipotetico little oddio può essere little sono 10 20 30 raden raden è fortissimo no non è little per poco a questo punto andrei a giocare raden andrei a giocare talnos possiamo andare di geppetto 3-6 ci da 4 carte speriamo che ci dia le 2-1 me ne ha data solamente una di 2-1 maledizione me ne ha dato talnos invece terribile raden cioè terribile scusate geppetto raden è molto forte perché ci da una board devastante wow che roba di board che ci ha messo abbiamo doppio antifatiche per sempre 4-8 potremmo vincere il game sono implicente con i 4-8 che continuano a giocare e poter continuare a mettere in campo dell'assurdo la cosa cerco di spaccarci il 3-5 giustamente lo vedo abbastanza dubbioso sul da farsi sembrerebbe che non abbia remover soprattutto questa board anche perché ha giocato arena un po' forse prematuramente si trova ora abbastanza in difficoltà perché questi sono tantissimi danni che gli entrano se non sto attento tempesta di lame risulta essere forte ci fa millare doppia carta sif va bene la 3-3 fa schifo va di brann addirittura wow va a fare anche la spell si spacca ulteriore armor e qui tradderà quasi tutto scusatente quello che va a fare e qua dovrebbe essere l'ital giusto andiamo a spaccare il 7-2 in questa maniera vabbè gli togliamo ulteriore armor e possiamo andare a fare l'hero power che ci fa 5 in verità giochiamo prima ovviamente l'1-4 e andiamo a 10 possiamo rigiocare la 2-3 e ci andiamo a 20 più l'arma sono 22 non abbiamo più ulteriore mana per giocare nient'altro questo è il problema però sono 22 44 e l'avversario ha 44 punti vita quindi è over little perché la il grillo di battaglia dell'arma fa 2 danni ok ok gg mamma mia che che bel game anche questo andiamo ovviamente a fare quindi 20 più ovviamente la 2-3 non ci permette di poterla giocare purtroppo ma vabbè poco cambia se avessimo voluto farci ulteriore armor avremmo potuto giocare anche l'1-2 che era l'unica cosa che potevano giocare in questa situazione andiamo a spingere per l'appunto 22 danni testa infatti siamo due over come avevo detto ragazzi che dire che partite sono completamente consumato dal dal giocarle quindi direi che noi ci possiamo vedere con un nuovo video domani spero che il deck vi sia piaciuto perché davvero molto figo tanta roba e direi niente domani nuova videoguida quindi sempre qua puntuali alle 13 mi raccomando mi piace iscrizione come al solito e niente ciao ciao ciao